Buongiorno a tutti, in questo nuovo video particolare, non propriamente dedicato al concorso della scuola, voglio parlare di come migliorare la propria intelligenza. Sicuramente avrete visto video su Feuerbach, sull'intelligenza emotiva, dirette live, in cui abbiamo già toccato questi discorsi che sono comunque collegati con la scuola, con la pedagogia, con la psicologia e con la ricerca. Sicuramente, anche avendo nominato nei video precedenti Gardner, posso dirvi che veramente troverete molte risorse in questo canale a riguardo. A differenza del QI, è importante dire, il QI con quotiente intellettivo, che resta nella vita, diciamo, invariato, anche se su questo punto potrei dire che ci sono delle recenti scoperte, e se voi ne sapete dell'altro lasciatemi dei commenti, sicuramente l'intelligenza emotiva, di cui Goleman è uno degli autori, dei divulgatori, che ne parla senz'altro in maniera esaustiva. Vi do questi riferimenti perché poi potrete anche andarveli a studiare, a ricercare. Mi piace, insomma, basarmi su fatti scientifici e poi magari poter confrontarmi con voi se avete il desiderio di leggervi diversi libri di questi autori. Ok, l'intelligenza emotiva, dicevo, di solito viene sviluppata, si può sviluppare. Vi anticipo che alla fine del video vi dirò dei 15-20 esercizi che potete fare tutti i giorni comunque per sviluppare la vostra intelligenza. Essa, abbiamo detto, l'intelligenza emotiva si può sviluppare, di solito aumenta con la maturità ed è fondamentale soprattutto per avere successo nel lavoro. Essa è legata, come detto, alle emozioni. Per chi riesce a svilupparla si riesce a svilupparla si riesce a sfruttare il potere e l'energia delle proprie emozioni. Si riesce ad aumentare la motivazione che sale, si riescono ad aumentare le capacità di problem solving, si riescono ad aumentare le capacità decisionali. Ma veniamo a noi su esercizi da fare quotidianamente per diventare più intelligenti. Allora, di sicuro possiamo farci venire nuove idee, il pensiero creativo. Come? Possiamo pensare a idee anche non attuabili. Per esempio, possiamo immaginare come ridurre la povertà e immaginare delle soluzioni. Come gestire chi ci offende, gestire l'offesa. Tra l'altro, a mio avviso, questa ultima parte è molto importante. Spesso ci capita di avere a che fare con delle persone che ci offendono, che ci giudicano, che ci fanno anche star male. E magari gestire l'offesa può diventare una consapevolezza delle emozioni che proviamo e cercare di gestire al meglio per non rovinarci la giornata a causa, insomma, di chi ci offende. Ad esempio, anche come, adesso vi dico, dei pensieri nobili. Come, per esempio, ridurre la fame nel mondo? Sicuramente potete pensare a come risolvere questi problemi. Punto 2. Sicuramente è importantissimo leggere. Leggere ci aiuta a sviluppare il nostro vocabolario, le nostre capacità linguistiche, ad ampliare la nostra cultura, la nostra conoscenza. Ci aiuta a formare le nostre opinioni. Ci aiuta a stimolare la fantasia, la creatività. Veramente, leggere aiuta tanto. Andiamo a... Riprendo dei concetti di Socrate. Può essere utile cercare di fare l'avvocato. Possiamo farci un'idea su un qualcosa e poi cercare di confutare quest'idea. Possiamo cercare di cambiare opinione, difendere un'idea. Guardandola, questo perché ci aiuta? Perché noi partiamo da un punto di vista e cerchiamo di allargare il nostro orizzonte osservando l'idea da più punti di vista. Sicuramente, non lo dico per farmi pubblicità, aiutano i video educativi e formativi. Perché anziché magari un talk show, anziché una fiction, guardare documentari, video, queste sono delle dirette, video... alcuni li chiamano corsi, a me non piace la parola corso, video culturali, dove è possibile imparare, dove è possibile interagire attivamente, interagire. Voi potete sempre scrivermi i commenti. Ci sono tante cose che nella vita non riusciamo a comprendere. Ci sono tante cose che bisogna... Noi nella vita dobbiamo sempre rimanere utili, utili, utili senz'altro, scusate, anche umili, volevo dire. Perché sapere di non sapere significa molto. Possiamo anche avere un'interazione positiva positiva con i social network. Siamo social, va? La parola social. Perché? Perché ovviamente l'informatica, le tecnologie informatiche e anche tutto ciò che sta muovendo le menti e il mondo può essere importante e noi non dobbiamo rimanere indietro. e quindi abbiamo la possibilità di confrontarci con gli altri. Abbiamo la possibilità di aumentare il nostro campo d'azione interagendo con tantissime persone. Possiamo condividere, non solo attraverso i social network, possiamo condividere la conoscenza. Perché oltre che sicuramente studiare, che fa sicuramente bene leggere e studiare, le sinapsi cerebrali si formano parlando, comunicando, confrontandosi, esponendo il proprio punto di vista, il proprio pensiero. È come quando si è studiato un libro. Se poi non si ripete ad alta voce o non ci si riflette sopra, poi i concetti scivolano via. Si può anche pensare di gestire, pensare alla gestione, la gestione del tempo, alla gestione di e a scrivere, a quindi prendere consapevolezza e quindi fare anche una lista di ciò che vogliamo imparare subito, per esempio abilità che ci possono servire da subito, fin da subito, per il lavoro, per risolvere i problemi che ci fanno stare male, e anche elencare ciò che vogliamo imparare in futuro. Per esempio, a suonare il pianoforte, per esempio a suonare il violino, per esempio imparare una seconda lingua. Tra l'altro lo scrivo qua, è stato trovato scientificamente che parlare una seconda lingua aumenta l'intelligenza e sicuramente un riflesso sia anche sul ritorno qui sulla possibilità di interazione con gli altri, perché ovviamente conoscere l'inglese ci dà la possibilità di parlare con oltre un milione di persone, quindi aumenta l'interazione con gli altri. Poi può tornare sempre utile per i viaggi. Sicuramente imparare una seconda lingua è molto importante. Sempre per la consapevolezza per aumentare la nostra consapevolezza possiamo scrivere ciò che abbiamo fatto durante il giorno. Questo simula la memoria a breve termine, ci aiuta nell'autostima ci permette di comprendere quante cose magari abbiamo fatto a fine giornata e questa 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 procedura è strettamente correlata anche a scrivere ciò che abbiamo imparato. aiuta sicuramente la motivazione basta iniziare credetemi è come non citare lo sport o fare l'esercizio fisico come si diceva mensana incorpori sano ma ormai è stato dimostrato che camminare passeggiare fare yoga fare sport anche di gruppo calcio tennis sicuramente aumenta l'intelligenza l'intelligenza la psicomotricità riduce lo stress questa volta posso fare una bella freccia che va in giù sicuramente abbiamo poco spazio lo scrivo qui possiamo frequentare persone interessanti persone frequentare persone per noi intelligenti con le quali condividere le nostre esperienze condividere confrontarci anche in senso stimolante perché ci può avvicinare a loro possiamo pensare anche di coltivare con loro un percorso di crescita e questo è intimamente correlato anche a un processo di la crescita sia anche grazie alla curiosità la curiosità che ci spinge è una linfa che ci spinge ad indagare su sulle novità a metterci metterci di dubbi a provare nuove situazioni a esplorare a esplorare nuove strade nuove vie questo sicuramente allarga i nostri orizzonti sicuramente lo scrivo qui il su goku il su goku il cruciverba esistono tanti giochi intelligenti anche ormai esistono applicazioni intelligenti giochi di memoria di parole anche lo scacchi giocare a scacchi mamma mia giocare a dama giocare a carte ovviamente questa è una palestra per la mente sicuramente ci aiuta la meditazione anche il non fare nulla ascoltare la nostra mente senza pregiudizio senza giudizi verso gli altri e a un certo punto è fondamentale applicare tutto ciò che abbiamo imparato sicuramente a livello teorico ci fa bene esercitarci su tutto ciò che abbiamo detto però poi a livello pratico cominciamo a metterlo in pratica qui avrete la possibilità di iscrivervi al canale attivare la campanella e rimanere sempre aggiornati qui se volete avrete la possibilità di mettere mi piace al video qui sotto è la parte mi piace di più possiamo c'è tutta la parte dei commenti potete scrivere il vostro commento io cercherò di rispondervi scrivete ciò che ritenete opportuno non importa non abbiate paura qui sicuramente avete la possibilità di condividere il link di condividere il video con altre persone lo potete condividere su whatsapp su facebook dove vi pare e potete parlare di tutto ciò che ho detto anche con i vostri amici con questo io vi auguro una buona continuazione di giornata un saluto da Francesco Samari